Musica 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 Il deposito, sono tre segni. Giunti al quarantinesimo minuto. Adesso un'altra occasione. Le versioni iniziate in questo momento. Iniziamo così. Non è una cosa che c'è. C'era poco fa Volcardi. Impossibile. Bianco Rossi, altra palla. Molto bene, molto bene. In mezz'ala, un attacco. La sinistra, questo domani Milani si vedeva che non era un mappa. Un attacco è l'assiettante, che non è l'attenzione. Infatti, per funzione, è più lontana. Sarebbe una liberazione. Proppiero che venivano in una guardia. Al giro, il titolo c'è di Fischi, arriva adesso! Il presiede Torna al successo!